Il tuo quartiere Il tuo quartiere Il tuo quartiere a casa da, lo scarparillo mosa era deciso, tenendo per un dono un biglietto rosa, quando giusti varanno con una scusa, che le dà a fare scarpe per scusare. Giove, giove scarparillo, e per tu da regginero, se tu biglietta sti batillo, levo mano si è andamne, non da retta scordatella, giove, giove scarparillo, venim a noi tra sé, venim da chiese, d'era l'altare no biglietta rosa, o scusa legge a garandera a scusa, s'arributeo il quartiere a sanità, o scusa che era no ma sai deciso, ricetta non ma tenga che sto pesa, a chi sta a fronte non ci stanno scusa, nessuna dena forza mi ferma. Giove, giove scarparillo, ma su sposi regginella, ma sapenna è proprio chino che era tanto amica a te, e con me caccio cortillo, sta tattendo scarparillo. Giove, giove scarparillo, come sbatte sto martin, coppo che resta cancella, cadevo sola a te, come gli anni regginella, ma che fate sciarparillo. Buonasera, buonasera, buonasera. Grande, grande buonasera a tutti i fatti. Buonasera, buonasera. Forse dà come è successo. E cosa è successo? Ma non bella e buona, ci ho trovato in questa macchina, ieri, andammo in l'Italia. Una femmina nuda. Non ha cominciato. Non ha cominciato. Non ha cominciato. Non ha cominciato. Hai visto un colpo di telefono e ti è rimasto presto. Ah, ora era un colpo di telefono. Ok. Buonasera dal grande Nicola Turco, da Enzo Fucito. Stasera ci abbiamo direttamente dal Texas. Dal Texas. Un grande ospite, cuo capillo, cuo cavallo, ha usato il tuo cavallo all'altra. Ah, ecco. O ciuccio, o ciuccio. Hai capito? Salutiamo il nostro patron. 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 Angelo Ucciero. Si nasconde, sta qua, ma non sta qua e si nasconde. Angelo, noi ti vogliamo sempre bene se il nostro Angelo... Custode. Veramente custode. Allora, stasera abbiamo questo grande ospite. Veramente abbiamo preso il Vesuvio di Napoli e l'abbiamo portato qua. È vero, è vero. Però adesso, prima di presentare l'ospite, c'è un brano del nostro gruppo perché... La signora... Diciamo che, un attimo su, diciamo che potete venire in tutte le puntate, in qualsiasi artista, basta che seguite partendo per TV, vi dicono chi è il cantante. Non si paga niente. 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 Logicamente, si tenete sedi, è pulito mangiare una pizza, una cosa, c'è il ristorante. C'è la pizzeria. Ma non è obbligatorio. Vi sedete, non si paga niente. Ci sono tanti ospiti. Ogni sera c'è un ospite. Giusto. Noi stiamo, non stiamo nello studio, lo ripeto, stiamo sul palco. Sul palco, all'aperto. All'aperto. Quindi, tutta l'estate ci saranno delle belle sorprese. Ok. Adesso cantiamo. Stacaso... No, perché voglio... Mi dimentico i nomi. La signora Gioia. Ah! Gioia, Gioias. Puro nome è bello. Ma è la più tele... No, 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 no. Io mi segno il bigliettino perché posso dimenticare. È l'età, è l'età. E ho un po' di pace e ho pure... È un palco. No, che è un palco. È un palco. Ho un morbido palco. Ok. Allora... Vai. Poi dobbiamo salutare, prima di andare avanti un momento, la famiglia Ammirati Maria. Sì. Con Mario siamo stati questa giornata lì alla sorrisa. Un grande bacio agli sposi. Agli sposi. Ci stanno guardando. Aguri, aguri. Penso che la signora Maria, ambressa, ambressa, ha pigliato la bombiniera, ha pigliato... Se ne è fiuto. Ma ero stato correndo. E mi abbia... E che era la partita dell'età? S'avvicinuto le visure. S'avvicinuto le visure. Alle 22.30. Andate con calma. Dalla sorrisi. Si sono messi in macchina, ma si stanno vedendo la puntata. Ok. Signora Maria, un grande bacio. Adesso ci canterai una canzone che non era in scaletta. No. Però subito, tu lo sai, qua ci abbiamo i Santi in regia. Dedicato alla signora Gioia. Il brano si chiama Odesor. Andiamo a salutare tutta la famiglia Capozzi su questo brano. In particolare Mario Trevi. Mario Trevi. Che è un grande successo di Mario Trevi. Odesor. 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 Tutto per la signora Gioia. Vai. Per la signora Gioia. Grazie a tutti. 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 è un grande successo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pronto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. ok salutiamo la nostra amica Anna Russano ciao Anna grazie anche da parte mia un bacio forte ad Anna Russano veramente una cara amica allora andiamo a vedere Antonio Buonomo nella tua scaletta vado a vedere il regale e niente stava ancora più avanti un momento ma tu che te grigli che hai avuto due canzionette tu accanto a me come hanno telefonato sei sequestrato allora uno si chiama il regale è nato Stulietto ok Antonio Buonomo Buonomo Antonio Grazio Ormai così decisa non ci sta niente a fare con me non vuoi far pace e immagiarà segna non ci sta niente a fare non ci sta niente a fare non ci sta niente a fare no? non ci sta niente a fare non ci sta niente a fare ti regale io mi pigli non so sai che ti dico tutta cosa io bambini e mi vaga a divertir e si sento sordiglina con delle lettera alfabete e te firmo un'omma mia proprio all'aria ferma sono qui che sto dicendo a faccia a faccia a doyen mamma ma come è bella ha già avuta libertà a 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 signora dedicata a voi eh si vai con la seconda a a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Andiamo con le canzoni. Andiamo con le canzoni. Grazie a tutti. Abbracci a tutti. Grazie 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 a tutti. quelle che non ci sono, ci sta sempre qualcuno però, tipo Giulietta però non canta più no, no, no e la salutiamo ancora i grandi che ci abbiamo avuto sì, è chiaro è chiaro e poi sono indimenticabili e ci mancherebbe altro perché l'hanno dato veramente e la stiamo dando noi c'è una telefonata, pronto? la vita a queste tavole ti danno una fermentazione che ti fa paura ecco qua, pronto, pronto vediamo un po' preparato anche gli altri due brani di Antonio Bonomo che sono? che l'ha là ehi, che se è bello che l'ha là che l'ha là essi ma picci co cuti bellissimo la gall'inferno è quanto vuole bello, bello vediamo se c'è diretta, se no passiamo alle canzoni se non c'è diretta, vai ancora allora no, io volevo mandare dei saluti che sono molto importanti per me alle ai tre mie due mie nipotine femmine un bacio a tutti e tre davanti a mia Clara e Sara e poi al mio nipotino Lollo Lorenzo Lorenzo pronto 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 Nicola si buonasera ciao Olivia ciao Olivia Olivia della sanità ah ciao Olivia ciao senti ciao Antonio siete bellissimi siete grandi tutte e due grazie grazie non ci vedo bo non ci vedo bo non ci vedo bo non so scegliere comunque mando un bacio a voi sì alla mia amica Anna sì a Capinieri e a Caterina ma ci stai guardando a Capinieri ci stai guardando penso di sì un bacione a Capinieri un bacione grande grande alla Capinieri un abbraccio forte da parte mia va bene buonasera non ti preoccupare i prossimi soffermi ricco è povero ricco è povero più povero più poveri più poveri che noi in Giustano le ricco e poveri ci sono ancora sì 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 ok ok allora Antonio Bonomo vai vai Antonio vai fanno già ricreare st'amore mi teneva un caderno ma un tetto basta e mi sono liberato mi pare giù il turchino cielo mi pare giù il lucendo solo io cuore canto per felicità che lalà che lalà che lalà mi va dicendo che me vuole star segreta che mi faccio santa mare segreta che mi faccio che po' mi spara che lalà che lalà non sape che piacera che mi fa me ne pillerà da giubbella e sa tella resterà che lalà che lalà che lalà aier mi ha mandato un figlietto ma figlia è un figlio che è un figlio dell'infetto mi scrive che non è felice e che voglio con me fa pace ma io mi sto gustando la libertà che lalà che lalà che lalà mi va dicendo che mi vuole star segreta che mi faccio santa mare segreta che mi pazzisca e po' mi spara che lalà che lalà non sape che piacera che mi fa me ne pillerà da giubbella e sa tella resterà che lalà che lalà che lalà tu mi sape che piacera che mi fa me ne pillerà da giubbella e sa tella resterà che lalà 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 ebra a ieri mi ha mandato una bollette la seconda la bollette era la luce la bollette è l'acqua padrone vai che la seconda vai c'è un altro brano salutiamo la famiglia Perna lalà non ti sto dedicando giù e sarà purino che sto lontano a te laggiù capito a ieri quando non schiaffa pure su portà è la roba quando pot si scoglià sto sentimento ancora ritesi ma si ma si mi ha picc che rote Grazie a tutti. 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 al tuo gestito della nostra emittente non possiamo mai ospitare nessuno tranne se non l'ordina direttamente il nostro padrone quindi non ce ne vogliate salutiamo Renato De Carmine Angelo è tutto lo staff e poi ringraziamo tutti voi che ci seguite sempre ogni puntata fin quando la possiamo fare perché noi gratuitamente cerchiamo solo di farvi compagnia andiamo con due canzoni non diciamo i titoli non diciamo i titoli Giulietta Asac è un frate mio c'è un frate non mi guarda cassa in vite però giudiamo così però aspetta e poi ci sono i saluti salutiamo qua adesso signori buonanotte Antonio Bonomo Nicola Turco un bacio a tutti quanti voi che state qua un bacione a tutti quanti ok bene vai Nicola vai a tutti quanti voi che state qua non ci sono i saluti non ci sono i saluti a tutti quanti voi che state qua non ci sono i saluti A presto 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 A presto